Ruspe in azione lungoviene Gusanti, la strada che costeggia l'ex caserma Paolini a Fano. Qui, come spiegato nei giorni scorsi dall'assessore alla viabilità Fabio Latonelli, verrà realizzato l'ultimo tratto di pista ciclabile a doppio senso di marcia che collegherà il quartiere di Sant'Orso al centro storico e alla zona mare. Il progetto prevede anche la riqualificazione del percorso pedonale con l'aggiunta di aiuole, piante e una nuova illuminazione LED. Quello che però preoccupa i residenti e soprattutto i commercianti è la perdita dei posti auto. In ogni caso, come aveva spiegato l'assessore, verranno mantenuti alcuni stali a lato sud di fronte ai negozi e previste delle soste con disco orario verso la scuola Corridoni per agevolare la rotazione nell'uso dei parcheggi. I lavori su questo tratto termineranno entro il periodo natalizio e come mostra il cartello con la nuova ordinanza, il divetto di sosta è stato prorogato fino alla fine di novembre ma agli esercenti sarebbe stata comunicata l'intera chiusura al traffico. Ieri vi hanno comunicato una chiusura della strada? Sì, l'impresa totale. Questo che cosa comporterà a voi? Non so, anche per lo scarico non c'è più niente. Come facciamo noi? C'è solo un passaggino di 30-40 cm perché non ho idea di preciso, però la frutta, la roba, anche tutti i fornitori da noi si lavora con fornitori di roba fresca e quindi sono parecchi i fornai, i camion grossi, anche per scaricare la merce è un problema. Anche scaricare un pezzo di carne, un coscio che pesa un quintale da via dei mille, non è una roba tanta salutare. Che cosa ne pensa dei lavori e del nuovo progetto? Allora, il progetto sicuramente sarà un bel progetto, decoro per la città sicuramente, però disagi da un punto di vista dei parcheggi ci saranno. Su questo non ci piove, anche perché già sono limitati adesso e quindi possiamo immaginare quello che sarà prossimamente. È tutto da vedere come andrà, insomma, anche da un punto di vista lavorativo, perché poi tanto i problemi sono quelli. Anche perché il parcheggio della caserma spesso è pieno? Spesso è pieno. Allora, il mercoledì e sabato è quasi impossibile trovare un posto di parcheggio perché comunque c'è il mercato e questo limita. Il lunedì si trovano, il lunedì si trovano. Gli altri giorni, diciamo, dopo una certa ora è un po' difficile. In realtà se dovessero rimanere, non so, quei 5-6 parcheggi, perché poi parliamo di parcheggi che si conteranno su un palmo di una mano, l'importante è che vengano comunque messi o con un disco orario limitato per poter dare la possibilità alle persone comunque di scambiarsi. Avete paura di perdere i clienti? Abbiamo paura di abbassare il fatturato, questo sicuramente sì, assolutamente. D'altra parte veniamo comunque da due anni abbastanza difficili, quindi questa cosa sicuramente creerà dei problemi. Avete già ricevuto la mentele da parte dei vostri clienti? Certo, sì, perché l'impossibilità di raggiungere la farmacia da qui a almeno 20 giorni, come hanno loro supposto, ma sarà difficile rispettare i termini dei lavori perché piove di continuo, il cantiere si interrompe sempre. Quindi noi quello che abbiamo chiesto è semplicemente di poter lavorare su più punti senza interrompere la circolazione delle macchine perché loro hanno garantito un piccolo passaggio pedonale che ovviamente non garantisce l'arrivo di persone anziane con le stampelle e comunque che fanno fatica ad ambulare perché loro hanno detto che manterranno comunque dei parcheggi in via Corridoni, ma è troppo lontano, cioè la via deve rimanere aperta, loro possono comunque lavorare su più punti senza interrompere il servizio e quindi questo è quello che chiediamo, non abbiamo fatto richieste particolari, insomma, solo il mantenimento della nostra attività lavorativa, soprattutto questo è un presidio sanitario, noi non lavoriamo per l'interesse nostro, ma per l'interesse pubblico, facciamo tamponi, iniziano le vaccinazioni, i medici devono vaccinare, qui ci sono ambulatori medici, è un'assurdità, prima dovevamo essere interpellati, quindi noi ci opponiamo ovviamente, agiremmo eventualmente per vie legali, non siamo disposti a subire questi sopprusi, la pista ciclabile già c'era, la potevano semplicemente rinnovare, fare un'illuminazione, questo sì, il fatto che loro vogliono riqualificare la strada, noi siamo ben contenti, chiediamo semplicemente che vengano rispettate promesse sui lavori da eseguire. In questi giorni ci sono stati anche dei controlli da parte delle forze loro? Sono stati molti disagi perché in tanti anni abbiamo sempre chiamato i vigili per poter fare delle verifiche, visto che parcheggiavano tutto il giorno anche i camion del mercato, parcheggiavano per la giornata intera del sabato e del mercoledì, non veniva mai nessuno a controllare, adesso che ovviamente le macchine magari si appoggiano un minuto per poter andare dai negozianti e dal medico, ci sono tutti i giorni a fare le multe, hanno fatto sfilze di multe, sono andate anche nell'ambulatorio medico, proprio per chiedere chi aveva parcheggiato la macchina, quindi un po' di tolleranza penso nei confronti delle persone che un attimo non devono accedere con questo caos, si potrebbe venire incontro.